Massimiliano Laudati, detentore della Coppa Italia di rally nella categoria N3, zona 3 ovviamente. Hai partecipato al rally di Pico, che fa parte del rally di Roma ed è un rally europeo ed italiano. Come è stata questa esperienza? A cosa ti ha portato? Come è andata ovviamente l'esperienza a Roma? Allora, diciamo con Roma, abbiamo concluso la nostra Coppa Italia, dove venivamo già da due risultati utili, dal primo posto conquistato al Matese e dal quarto posto al Lucca. Con questa prova qua di Pico, che abbiamo fatto il primo posto, ci siamo giudicati la Coppa Italia, terza zona di classe N3, come dicevi tu. Mi sento di ringraziare soprattutto gli sponsor, perché senza di loro non si potrebbe proprio mettere mano in questo sport. Poi ovviamente gli altri ringraziamenti vanno alla mia scuderia, alla mia azienda di famiglia che mi supporto, perché a noi è una cosa nata tutte in casa e stiamo iniziando a girare l'Italia tutti insieme. Poi ovviamente si ringrazia il mio navigatore, persona di fiducia, che è nato un buon connubio con lui e stiamo cercando di, gara dopo gara, di migliorarci sempre. A chi dedichi questi successi? Ho letto che hai dedicato i tuoi successi alla tua famiglia e alla tua squadra. Cosa ti auguri per il prossimo futuro vedendo il calendario ricco di impegni, come hai detto prima? Vabbè, in primis è dedicato tutto alla mia famiglia, a mio fratello, a mia sorella, a mio padre, facciamo tanti sacrifici insieme, soprattutto lui in officina per curarmi la macchina. In linea di massima noi facciamo l'ultimo tassello delle gare, perché le gare partono mesi prima in officina. Niente, ci auguriamo sempre, il mio obiettivo è migliorare sempre me stesso, cioè lottando per migliorare me stesso, poi vengono i risultati, va bene, questo è, l'obiettivo è migliorarsi, quello è.